Buongiorno carissime, buongiorno carissimi, eccoci qua ancora per un po' di yoga insieme, sbloccare un po' il nostro corpo, cercare di portare calma, quiete, serenità nella nostra mente e nel nostro cuore. Cerchiamo di rilassare bene tutto il corpo, le spalle bene aperte, lontano dalle orecchie, tutto il viso disteso, morbido e immaginiamo la nostra mente come un vaso. Nella nostra mente si muovono sempre tante onde agitate, tanti pensieri, cerchiamo di liberarla completamente, vediamo la nostra testa come un vaso che piano piano si colma di luce, come un vaso di cristallo che si riempie di luce e questa luce allontana tutti i pensieri, non c'è posto per i pensieri, c'è posto solo per la calma, per la tranquillità e per l'ascolto. E cominciamo a sciogliere le spalle, portiamo le mani alle spalle, disegniamo dei cerchi nell'aria con i gomiti, li avviciniamo e li allontaniamo, tutto con calma, cercando di sentire il movimento dei muscoli delle spalle, il movimento nella zona dorsale, nella schiena, nella parte alta della schiena. Adesso portiamo un braccio verso l'alto, lo allunghiamo bene verso l'alto, immaginiamo di toccare il soffitto, poi apriamo e chiudiamo con forza le dita delle mani, sempre tenendo il braccio allungato verso l'alto, apriamo e chiudiamo le dita delle mani e poi rilassiamo. Abbandoniamo completamente il braccio e per un attimo ascoltiamo tutti i contrasti, tutte le differenze tra un braccio e l'altro. Sentiamo gli effetti del nostro lavoro, della nostra pratica. Poi su anche l'altro braccio, lo allungo bene verso l'alto, tengo l'allungamento, apro e chiudo con forza le dita della mano e poi abbandono il braccio, rilasso. Adesso portiamo, apriamo le braccia, ci allunghiamo su un lato, poi sull'altro, ancora, cerchiamo di spingere bene il tronco lateralmente, poi torniamo al centro e lo spingiamo nell'altra direzione. Uniamo anche il respiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ritorno al centro, rilasso, abbasso completamente le spalle, ascolto e muovo ancora piano la testa da una spalla all'altra, sempre con un movimento leggero. Lasciamo le braccia rilassate, completamente abbandonate. ancora, ascoltiamo, ascoltiamo il movimento del collo e riportiamo la testa al centro. Adesso sciogliamo bene le articolazioni della spalla, teniamo questa spalla ferma, questa spalla si spinge in avanti, poi su, verso l'alto, poi la spingiamo bene indietro e la facciamo scendere. Ancora, su, la spingiamo bene verso l'orecchio, indietro e giù. Adesso l'altra spalla, in avanti, su e indietro. ancora, su, indietro e scende. Adesso facciamo il movimento nell'altra direzione, la spingiamo prima indietro la spalla, poi sale verso l'orecchio e scende. Ancora, indietro, cerchiamo di spingerla bene indietro, spingerla bene su verso l'orecchio e scende in avanti. L'altra spalla, indietro, su, spinta bene verso l'alto, in avanti e giù. Ancora, indietro, su, in avanti e scende e rilassiamo. Cerchiamo di allargare bene le spalle, allargare bene la schiena, allargare bene il torace, sentire che un po' per volta si crea spazio nel corpo, il corpo diventa spazioso. Adesso portiamo ancora un braccio verso l'alto, lo allunghiamo verso l'alto e lo spingiamo un po' lateralmente, poi sull'altro braccio, alterniamo, un braccio e l'altro. Ancora, su, mentre scende un braccio sale l'altro, lo spingiamo verso l'alto e lateralmente. Ancora, su, ancora e ancora una volta con questo braccio e rilassiamo. Stendiamo completamente sempre le spalle bene aperte, distese. Adesso solleviamo il ginocchio, mani intrecciate sul ginocchio, disegniamo dei cerchi nell'aria con il ginocchio, lentamente, dei cerchi ampi, senza irrigidire, un bel movimento rilassato. Cerchiamo di sciogliere bene l'articolazione dell'anca, rilassiamo. L'altro ginocchio, ancora, in fuori, al centro, scende. Ancora, cerchiamo di sentirlo il movimento nell'articolazione dell'anca. Poi prendiamo ancora l'altra gamba, facciamo nella direzione opposta, al centro, in fuori, poi torna ancora al centro, un bel cerchio ampio. e rilassiamo. L'altro ginocchio, prima lo spingiamo al centro, poi all'esterno. Ancora. E rilassiamo, bene, distendiamo. Adesso, agganciamo insieme le mani. Teniamo gli avambracci paralleli al pavimento, le braccia lontano dal corpo, le spalle, i gomiti sono all'altezza delle spalle, non è questo. Cerchiamo di tenere le braccia un po' su. Inspirando, spingiamo i gomiti lontano e le mani tengono l'aggancio. Rilasso. Ancora, inspiro, tendo, tendo un attimo l'allungamento. Sentiamo che tonifichiamo, lavorano tutti i muscoli dorsali. Rilasso. Ancora, spingo il gomiti lontano, spalle lontano dalle orecchie. Rilasso. Lo facciamo ancora una volta, tendo e rilasso. Bene, distendiamo. Inspiriamo dentro il respiro, espiriamo. La testa scende in avanti, sempre le spalle lontano dalle orecchie. Inspiro al centro, dentro il respiro, fuori il respiro, distendo bene la gola. Inspiro, espiro. Lentamente porto indietro la testa, teniamo un attimo questa posizione, tutta la gola che si distende. Poi ritorno al centro, inspiro, espiro, la testa scende in avanti, teniamo la posizione, sentiamo che si distendono tutte le cervicali, rimaniamo un attimo così, ci risolviamo. Adesso portiamo le braccia in avanti, intrecciamole dietro le mani, disegniamo dei cerchi nell'aria con le braccia, cercando di non piegare le braccia. teniamo le braccia tese in avanti e indietro. Inspiro quando mi porto indietro, espiro quando mi porto in avanti. Ancora, inspiro, respiro. Fermiamoci un attimo, rilassiamo. Adesso nella direzione opposta, in avanti le braccia, disegno un bel cerchio ampio, inspiro, espiro. Ancora, dentro il respiro, fuori il respiro, senza irrigidire le spalle, senza irrigidire le braccia. Ancora, dentro il respiro, fuori il respiro e rilassiamo. Bene, distendiamo. Adesso disegniamo il cerchio della gioia. Portiamo le mani al cuore, intrecciamo le dita delle mani, palmi delle mani in avanti, allunghiamo le braccia in avanti, poi le portiamo su, verso l'alto. Inspiro, dentro il respiro, fuori il respiro, faccio scendere lentamente le braccia e immaginiamo di disegnare un cerchio di luce, un cerchio di gioia, tutto intorno a noi. Poi portiamo indietro le braccia, dentro il respiro, fuori il respiro. Riporto le mani al cuore, ancora, inspiro, espiro. Distendo le braccia. Sulle braccia, dentro il respiro, fuori il respiro. e vediamolo, creiamolo con il movimento, questo cerchio di gioia, questo cerchio di luce che ci avvolge, che ci racchiude, che ci protegge. Indietro le braccia, inspiro, espiro. Riporto le mani al cuore. Ancora una volta, inspiro, espiro. Allungo bene le braccia in avanti, spalle lontane dalle orecchie. Su, inspirando. Espiro, le braccia scendono lentamente. Un cerchio di gioia, un cerchio di luce sempre più ampio, tutto intorno a noi. Visualizziamolo. Vediamoci avvolti in questo cerchio che ci protegge. Invece, inspiro, inspiro gioia, mani al cuore, espiro gioia. Rilassiamo le braccia. Vediamoci ancora, a volte, in questo cerchio di luce, cerchio di gioia, un cerchio di protezione. E appoggiamo le mani all'addome. Ascoltiamo il respiro. E immaginiamo ancora di respirare luce, di respirare gioia. Trasformiamo il respiro in luce, sentiamo il respiro che entra, il respiro che esce. E ogni respiro ci porta, ci porta luce e ci porta quiete, calma e serenità. E una sensazione di benessere. E una sensazione di benessere, di leggerezza. Cerchiamo di sentire che stiamo bene, stiamo bene con noi stessi. Continuiamo a ascoltare il respiro, cerchiamo di non distrarci. C'è solo il nostro respiro. Ogni respiro è un soffio di vita. Entriamo nel movimento del nostro respiro. Lasciamoci un po' cullare dal movimento del respiro. Bene, grazie, grazie per la vostra attenzione. Vi saluto con tanto affetto, vi auguro una buona giornata e vi abbraccio. A presto, care amiche, a presto, cari amici. Grazie a tutti.